Con il direttore generale Michele Albanese siamo negli uffici di Vallo della Lucania della Banca Montepruno. Ci vediamo a pochi giorni dal Natale, quindi siamo a fine anno e quando si chiude un anno inevitabilmente arriva un bilancio. Un bilancio che per una banca è particolarmente importante. Le chiedo subito che anno stiamo per chiudere per la Banca Montepruno. Intanto grazie dell'ospitalità. Grazie a voi. A fine di anno ci riuniamo e ci rivediamo soprattutto per farci gli auguri. Ma prima di farci gli auguri tiriamo un po' con le somme di quello che è stato un esercizio che almeno per quanto ci riguarda quest'anno è stato straordinario. Noi lo abbiamo richiamato e ritenuto l'esercizio dei record. In effetti le cose che abbiamo fatto, così come abbiamo dichiarato nella ultima nostra convention che si è tenuta a Salerno, le cose che abbiamo fatto in questo esercizio immagino si potesse fare in 4-5 anni. Sono cose importanti. In questo anno abbiamo anche fatto una fusione per incorporazione della BCC di Fisciano. Abbiamo dovuto rivedere ovviamente la struttura organizzativa. Abbiamo dovuto organizzarci su nuove piazze che ci vedevano impegnate. Abbiamo aperto due filiali, una a Padula e una molto più impegnativa a Salerno. Abbiamo aperto l'ufficio di rappresentanza al Corso Vittorio Morale a Salerno. Una serie di attività che poi non hanno messo da parte quella che era l'attività principale della banca, quello di fare banca. Abbiamo visto che anche quest'anno abbiamo avuto degli incrementi, abbiamo avuto sicuramente una situazione molto florida. Siamo cresciuti sotto tutti i punti di vista, dal punto di vista patrimoniale e dal punto di vista economico. Dal punto di vista patrimoniale abbiamo superato i 700 milioni di euro di raccolta, di depositi. Quindi questo dà già il senso della fiducia che le persone hanno nei nostri confronti. Abbiamo impiegato sul nostro territorio circa 500 mila euro e questo è un altro elemento importante perché dimostra che riusciamo e assistiamo la nostra clientela in modo capillare, in modo molto attento e in base alle loro esigenze noi rispondiamo sempre. Ma anche il dato importante che ci vede e ci ha visto protagonista è il raggiungimento di un conto economico favorevole. Spesso quando si fa una fusione per incorporazione si immagina che una banca debba chiudere con dei risultati negativi. Noi grazie a Dio quest'anno chiudiamo con un utero e netto di oltre 3 milioni e quindi siamo orgogliosi anche di questo. Siamo orgogliosi anche per un altro motivo. Anche quest'anno, nel 2017, ci siamo piazzate nelle posizioni importanti di classifica sia prima delle solo 24 ore e poi di Milano Finanza che ci vedono al primo posto in Campania per tutti gli indici importanti che ci sono e al quarto posto in Italia come creatore di valori. Avere questi risultati, una banca del sud, è stato già definito un risultato eccellente che ci ha riempito di soddisfazioni. Poter dire questo, ma sempre ovviamente come abbiamo sostenuto ultimamente, sempre però restando con i piedi per terra e la testa sul collo, riteniamo di poter ancora esprimerci meglio. Numeri importanti, si guarda lontano, riconoscimenti, lo diceva lei, non solo in ambito locale, con l'amore, l'affetto e la stima che mi mostrano i clienti anche in ambito nazionale con questi risultati, come dire, da primato che si registrano nelle classifiche dedicate proprio all'attività delle banche. Secondo lei, ecco, il segreto della banca Montepruno? Sicuramente un rapporto diretto con i clienti, la presenza sul territorio e anche questo rapporto, come dire, confidenziale che si ha con la gente. Beh, io dico che il successo, quando me lo chiedono, me lo chiedono spesso. Qual è il successo della nostra banca? È quello che noi la mattina ci alziamo e applichiamo i valori. I valori forti della nostra vita. Quindi io dico che, secondo me, quando noi abbiamo espresso quelli che sono i valori forti, abbiamo già fatto l'80% del nostro lavoro. Riteniamo che le persone che vengono a noi non sono dei singoli, non sono dei correntisti o dei nuori, ma sono delle persone. Sono persone che hanno una dignità, hanno una storia, hanno delle risorse alle spalle, hanno anche dei problemi e noi dobbiamo avere la capacità di ascoltarli e questo credo che sia la capacità più importante che ci viene riconosciuta da tutti, l'ascolto. L'ascolto sicuramente non si vede, non si può bilanciare, però questo credo che sia importante. Quindi noi e il nostro appoggio, ho la presunzione di poter dire che abbiamo creato un modello a Montepruno che stiamo cercando di esportare ovunque. Questo è un modello che, insieme all'applicazione dei valori, insieme al vivere il territorio, perché l'altro segreto è il vivere il territorio, non si può arrivare su una piazza e pensare di essere lì ed essere i più bravi. Oggi non si può fare la concorrenza attraverso le condizioni o i servizi, sono tutti uguali per tutti. Quindi la differenza la fanno i rapporti, le relazioni. In quanto tale noi siamo presenti un po' dappertutto, viviamo la vita sociale, viviamo il territorio, viviamo con le persone del territorio, con le associazioni, con le strutture. E ci mette la faccia in ogni occasione? Assolutamente sì, e questa è la cosa più importante, però la faccia ce la mettiamo. E la cosa più bella è che noi quando torniamo a casa la sera, forse stanca fisicamente, ma già pronti per il giorno successivo. Oramai siamo testati da questo punto di vista, ci piace farlo e perché vediamo anche i risultati. Salerno ci ha accolto in modo veramente importante. Noi in solo due mesi abbiamo raccolto oltre 15 milioni di depositi, ne abbiamo impiegate altri 10, la filiale Ipiena, il corso Vittorio Emanuele è sempre affollato di persone che comunque si apprestano e si affacciano a noi, ma perché anche lì stiamo cercando di vivere le realtà. Siamo presenti in Convindustria, siamo presenti in Camere di Commercio, siamo presenti nelle varie strutture associative. Proprio ieri abbiamo sottoscritto un accordo con la FIAP, che è la federazione degli immobiliari, la più importante in Campania, ma credo anche a livello nazionale. Beh, questa presenza, questa attività, questo ruolo che noi abbiamo il piacere di svolgere ci mette nelle condizioni sicuramente di essere la banca mica. E il banca mica, così come è sostenuto anche Luca Tontoni nel corso della nostra convention, è una parola forte. La persona che viene in banca, si sa che è la banca mica, si aspetta di trovare un amico e noi non possiamo essere da meno, non possiamo predicare bene e razionare male. Noi siamo chiari, siamo trasparenti, mettiamo sul tavolo i nostri numeri, mettiamo sul tavolo le nostre attività, mettiamo sul tavolo il nostro rapporto di amicizia. Sicuramente se interpretiamo il ruolo e la persona come un amico, beh, credo che a questo punto, ritornando al discorso dei valori, il nostro lavoro diventa molto più semplice. Salerno è l'ultima piazza conquistata in ordine di tempo e con una scommessa vinta partita tanti anni fa da uno dei più piccoli centri del Cilento, da Roscigno. Quindi, voglio dire, questo ci fa capire quanta strada è stata fatta. Salerno, Vallo di Diano, nel Cilento, Vallo della Lucania. Arriviamo a Vallo. Lei è qui oggi già ospitato negli uffici di Vallo. Anche questa è una scommessa vinta. Beh, la scommessa di Vallo della Lucania, che ne abbia pensato qualcuno, è una scommessa che già ritenevamo di aver vinto. I numeri che esprimiamo su questa filiale sono importanti, grazie anche ai collaboratori che lavorano bene. Siamo una banca che, come dicevo prima, sta con i piedi per terra. Vogliamo fare le cose in modo graduale, non abbiamo bisogno di grosse crescite. Oltretutto è una banca nostra super liquida, per cui non abbiamo bisogno di grossi depositi. Abbiamo bisogno solamente di svolgere bene il nostro ruolo. E lo abbiamo svolto così, come dicevi, partendo da un paese di 600 anni, forse non è neppure segnalato sulla cartina geografica, abbiamo raggiunto dei numeri. Però la cosa bella è che questi numeri e questi risultati, come dicevamo prima, anche a livello nazionale, li abbiamo registrati solamente in 15 anni. Perché se li ricordiamo bene, e io lo ricordo, che essendo stato il primo, noi 15 anni fa eravamo in 7 dipendenti, oggi ne siamo 125. E come dicevo prima, senza ricapitolare, siamo la banca che siamo. Vallo della Lucania è una banca che ci dà soddisfazione. Probabilmente non l'abbiamo come vertice, e questo lo devo ammettere, non l'abbiamo, diciamo, in un certo senso presidiata come meriterebbe. Ci impegniamo a farlo prossimamente, anche a livello della nostra struttura organizzativa è previsto un consolidamento anche su questo territorio, se necessario un ampliamento. Ma questo ovviamente rientra tra le nostre strategie, bisogna valutare e vedere un poco anche come si muove il mercato, come si muove la concorrenza. Dopodiché faremo le nostre conclusioni e vedremo. Mi piace anche ricordare che come banca di credito cooperativo abbiamo anche aderito un gruppo di cassa centrale, a differenza degli altri istituti, questo ci fa e ci permette di esprimere a livello territoriale delle potenzialità molto forti, non avendo, diciamo, fra virgolette banche della stessa categoria nello stesso gruppo bancario. Questo ci permetterà ovviamente di svolgere un ruolo importante. Siamo presenti a livello nazionale anche nei gruppi di lavoro e nella costruzione del gruppo stesso. E quindi bene, bene Vallo della Lucania, bene tutta la Banca Montefruno. Poi i numeri generali sono quelli che condono. Non mi piace dividere le cose per aree, però devo dire che quest'anno, lo abbiamo dimostrato ai nostri dipendenti in convention l'ultima volta, sono cresciute tutte le aree, tutte le filiali, per cui bravi a tutti. Quindi in chiusura ai clienti, ai soci, insomma, al personale tutto. Che cosa ci vogliamo augurare, come finiamo questo anno e come vogliamo iniziare il 2018? Il 2018 io ritengo che non sia un anno semplice. Non è semplice per noi, non è semplice per tutte le banche di credito cooperativo, non è semplice proprio per il sistema bancario in genere. Per cui noi dobbiamo solamente però pensare di svolgere il nostro lavoro così come l'abbiamo sempre interpretato. C'è bisogno di banche della categoria, non solo della Montefruno, ma mi rivolgo anche a delle altre banche di credito cooperativo. C'è bisogno che queste banche capiscano che le persone vengono al primo posto, c'è bisogno di territorialità e non credo che i grossi istituti possano svolgere questo ruolo. Ripeto, non sarà sicuramente un anno facile, sicuramente andremo incontro a delle grosse difficoltà. Nell'anno in corso 2018 si dovranno chiudere la costituzione dei gruppi, questo non sappiamo che cosa ci porterà. sicuramente ci porterà a ridurre un po' quelle che sono le autonomie, però se noi continuiamo a svolgere il nostro ruolo, per quanto possono ridurre, io ritengo sempre che queste famose capogruppo hanno bisogno di noi. Quindi è al contrario, siamo noi, sono le capogruppo che dovranno avere bisogno di noi. Per cui se noi svolgiamo bene il nostro ruolo, nessuno ci potrà dire nulla, nessuno ci potrà togliere nulla. Ed è questo il più importante. Ai clienti dico di stare sereni, di stare tranquilli, perché ancora di più, con la costituzione delle capogruppo, ma soprattutto con i patrimoni che le nostre banche hanno messo da parte in questi ultimi anni, e mi ferisco e parlo a plurale per non dire che siamo solo noi i più bravi, con tutti quanti credo possiamo affermare che possono stare tranquilli, sereni, perché i risparmi sono ben messi nelle banche di credito cooperativo. Auguri, buon Natale. Buon Natale a voi, buon Natale a tutti i telespettatori, buon Natale a tutto il Vallo dei Diano, Vallo della Lucania e tutti coloro che ci ascoltano. Grazie. Grazie. Grazie a tutti.